Cari amici, bentrovati! Andiamo a scoprire insieme una fisarmonica Elena Soprani. Elena Soprani di colore rosso, rosso Ferrari, modello 969KK. È una 3796 in terza e quinta con il Musette. Dalla parte destra troviamo sette registri con il Master centrale. La fisarmonica ha i tasti color madreperla, come i bottoni dei bassi, sempre in madreperla bianco. Troviamo quattro registri dalla parte dei bassi. Vediamo insieme le misure. La misura del tasto è di 19,5 mm la larghezza. La misura della tastiera è di 44,5 cm, esternamente 48, ha una profondità di 19 cm ed un'altezza di 41 cm. La fisarmonica pesa 9,5 kg. Sentiamo il suono dello strumento partendo dal registro superiore. La fisarmonica pesa 9,5 kg. 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 Sentiamo il suono dei bassi partendo dal registro superiore, scendiamo, scendiamo ancora, troviamo l'accordo maggiore, accordo minore, settima dominante, settima diminuita e la fila dei contrabbassi.